In nomine Patris e Filii e Spiritus Santi, Amen. Alla tua santa e divina presenza, Signore Gesù, anche oggi per tua grazia e per tua bontà ci mettiamo, implorandoti perché tu voglia degnarti di assisterci durante questa venitazione, riconoscendosi umilmente peccatori bisognosi della tua misericordia e del tuo aiuto. Deus meo estu tecorde benetet mea omnium eorum peccatorum, ea quede testor che peccando non solo un pena, state giuste statuta spromeridus sum, se peserti che offendite sono un buono moctigno qui super omnia di ligari, si dio firmi del propono, adiuvante grazie a tu, decetro menon peccaturum, peccandique occasiones proximas fugiturum, Amen. Venni creato Spiritus meintestuorum visita, in preso perna grazia che tu creasti pectora, qui dice risparacitus donum Dei Altissimi, fons vivus signis carites spiritualis unsio. Tuo safti formis munde, digitus paterne d'excere, turite promessum patris, sermone di transcuttur, accende l'umensensivus, infundi amore incordivus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti, hostem repellas longius, pacenque dones protinus truttores intepreio, vitemus somni noxium, per te scianus da patria, noscanus atque firium, tequo triusque spiritum, credamus somni tempore, Deo patrisit gloria, figlio che vi ha morto, vissi surrexit a paracriti, in secolo o in secolo. Amen. Emitte spiritum tumo e criabuntur, etre nuvavi sfaci e interre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di sua armaria Cecilia Bay. Libro secondo, capitolo primo. Come vi era intimata al figlio di Dio la partenza dall'Egitto e come si portava nel suo interno sino all'arrivo a Nazareth. L'ordine del ritorno, obbedienza pronta, preghiera per la casa e per la nazione. Alla morte di Erode, e quindi finalmente cessata la strage degli innocenti, ringraziai il padre mio che con così alta provvidenza si era degnato far cessare quella grande persecuzione. Mi intimò allora il diretto padre di tornare a Nazareth, mia patria, perché voleva che io ivi facessi la mia dimora. Adorai i suoi ordini divini e ringraziai di tanta bontà nel degnarsi di richiamarmi da quell'esilio e farmi tornare alla patria mia. In questa occasione lo pregai che per la stessa sua bontà si degnasse di richiamare a sé quelle anime che esiliate dal paradiso a caso della colpa vivono in mezzo ai loro nemici e sono schiave dei demoni. con una grazia particolare non solo le richiami da una così misera schiavitù ma togli da loro anche tutte le occasioni ed impedimenti che si frappongono per il ritorno all'amicizia sua ed allo stato di vita perfetta. Mi promisi di fare ciò il padre mio e lo esegue con paterna provvidenza molti animi perciò lasciano la schiavitù del demonio e del peccato per questa sua divina provvidenza anche se ne restano molti che non vogliono farlo. Ringraziai il padre mio di quanto si degnava di sporle per la salvezza dei miei fratelli godevo molto per quelli che ritornano all'amicizia sua ed alla vera libertà dei suoi diletti figli ma sentivo insieme una gran pena per quelli che se ne volevano restare nella loro miseria e schiavitù perché io tutti li vedevo. Offrivo questo mio godimento e questa mia pena al padre mio e lo pregavo che si degnasse di dare a quelli che facevano ritorno a lui la grazia di mai più da lui allontanarsi. Quelli invece che restano in misera schiavitù si degni di richiamarli con voci più potenti e con aiuti più validi usando anche per chi non ascoltava il suo amoroso invito e paterna provvidenza ai mezzi forti come i suoi castighi per farli ritornare in se stessi affinché facciano per le minacce e per liberarsi dai castighi ciò che non volevano fare per amore. vi di che il padre mio tutto avrebbe fatto così bene con grande misericordia vi di anche l'ostinazione di molti che non avrebbero fatto caso né ai benefici né ai castighi e di ciò intesi una grande pena. Mi consolavo però che molti si sarebbero ravveduti dal loro errore e avrebbero fatto ritorno a lui e ne ringraziavo il padre mio. Avendo a me già manifestata la sua volontà circa la mia partenza da quella nazione ne diede avviso a Giuseppe per mezzo di un angelo come vi disti nel capitolo precedente lo dai ed adorai questa paterna provvidenza e divina disposizione e lo pregai che si comportasse in simile modo con i miei fratelli. Nel senso che dovendo per divina misericordia richiamare a stato di grazia qualche anima e farlo ritornare alla sua patria che è il paradiso ne dia avviso a chi la può aiutare per farla ritornare a lui che faccia questo con le sue divine ispirazioni in modo che esegua il volere suo come fece Giuseppe che subito mi ricondusse in Nazareth per adempiere il divino volere. il tutto mi promise di fare il padre mio e io gli resi le dovute grazie anche da parte dei miei fratelli. inteso Giuseppe il divino comando ne diede subito avviso alla sua sposa ed insieme si rallegrarono per dover ritornare per dover ritornare alla loro patria ne resero grazie al padre mio e dallo stesso modo con cui avevano ricevuto l'ordine della partenza dalla loro patria ricevettero l'ordine del loro ritorno ugualmente feci io con il padre mio gli offrigui la loro pronta obbedienza ed uniformità al suo volere unita alla mia e lo pregai che segnasse di infondere nel cuore di tutti i miei fratelli una simile uniformità in tutte le cose tanto prospere come avverse lo pregai di ricevere quelle mie offerte in supplemento di quelli che non sanno assoggettarsi al divino volere e obbediscono e si uniformano al volere divino solo in quelle cose che sono di loro soddisfazione ricevete con grande giubilo il padre mio queste mie offerte e rimase soddisfatto della mia offerta per quella durezza e poca uniformità dei miei fratelli mi fece anche vedere come per quelle mie suppliche ed offerte avrebbe dato una nuova grazia a tutti i miei fratelli affinché si potessero uniformare in tutto alle sue divine disposizioni ed obbedire prontamente al suo volere io già vedevo che molti si sarebbero comportati da figli obbedienti e soggetti al volere del loro padre celeste di questi mi rallegherai molto ne ringraziai il padre mio ed impetrai loro maggiore grazia vedevo anche che molti si mostravano in ciò sempre più duri e ostinati senza fare alcun conto della grazia che dava loro il padre mio di questo mi affliggevo e pregavo il padre mio di accogliere da me la soddisfazione a lui dovuta per la loro durezza lo pregavo di usare misericordia a loro e di non desistere con la sua grazia affinché da questa prevenuti alla fine si arrendessero al suo volere e alle sue divine disposizioni mi prometteva il padre mio di farlo per consolarmi in quelle afflizioni io lo ringraziavo per questa nuova grazia e misericordia che usava loro come se la facesse a me lo benedicevo e lo davo la sua infinita bontà nel condiscendere in tutto ciò che io gli chiedevo a benedice dei miei fratelli e per la sua maggior gloria la mia diretta madre Giuseppe prima di partire presero congetto da alcuni che si erano loro affezionati che spesso venivano a visitarli per essere istruiti da mia madre attirati da le sue rare virtù non sapevano separarsi da lei la diretta madre li confortò li animò e li sortò la perseveranza nell'adorazione del vero Dio e nella fermezza della fede da lei insegnata li assicurò della sua continua protezione mi pregò di benedirli e impetrar loro dal padre mio le grazie necessarie per la loro eterna salvezza il che io feci con amore e benignità si commossero i loro cuori poiché erano già illuminati da luce superiore e conoscevano in qualche modo il gran merito della madre sapendo di doverne per sempre non sapevano consolarsi ed adattarsi a tanta perdita offrì al padre mio quelle loro lacrime e l'afflizione dei loro cuori lo pregai che si degnasse di consolarli e assisterli sempre in modo particolare lo pregai anche di degnarsi di dare un simile sentimento a tutti i miei fratelli in simile occasione sapendo di perdere la sua santa grazia e di quella della mia diretta madre per mezzo del peccato ne sentano quel dolore e quella pena che veramente dovrebbero sentire di fronte ad esso e per questo si risolvano a liberarsi tale grave disgrazi conoscendo il male infatti possono da quello liberarsi e non restare privi della grazia sua e della protezione della mia diretta madre lo pregai che si degnasse di avere una cura particolare di tutta quella nazione e sia perché vi ero stato tutto quel tempo sia per la carità che alcuni di loro mi avevano usato che si degnasse di illuminarla in modo che si convertisse e riconoscesse il vero Dio lo pregai anche che non permettesse che quella casa dove ero stato io ad abitare fosse abitata dai suoi nemici e che essendo già consacrata e santificata per la mia dimore in essa restasse sempre nello stato in cui la lasciavo chiesi che ognuno che in essa fosse entrato fosse illuminato e restasse persuaso delle verità eterne e che tutti entrando di confine retto restassero confortati ed animati alla perseveranza nella fede se entrava un infedele che si convertisse mentre non fosse permesso l'ingresso a chi volesse restare nell'infedeltà tutto mi concesse il padre mio e avendo ottenuto questo lo pregai anche che si degnasse di concedere simile grazia a tutte quelle anime in cui dimoro affinché divengano incapaci di accogliere il loro nemico che è il peccato poiché sono già santificate per la continua dimora che io faccio in esse chi tratta con loro resti illuminato e confermato nella fede e nella verità in modo da poter dire è veramente abitazione di Dio quell'anima e qui si trova quest'anima e qui si trova la divina grazia restino ammaestrati dalle sue parole e dai suoi esempi mi promise di fare ciò l'amoroso padre con tanta liberalità poiché un'anima fedele dove io faccio dimora per mezzo della grazia e dell'amore si rende a tutti di consolazione e serve a tutti di esempio e fa che ognuno che tratta con essa resti illuminato e persuaso in verità quell'anima è trono della divina sapienza e abitata da me benché molte dopo essere stato dopo essere state per tanto tempo abitazione mia divengono poi abitazione dei miei nemici questo succede ad esse perché vogliono farlo deliberatamente e non perché il padre mio non dia loro tanta grazia da potersi conservare nello stato in cui per sua infinita bontà le aveva poste vedendo che molte avrebbero mancato ne sentì una pena insopportabile che offri al padre mio pregandolo che in virtù di questa si degnasse di illuminarle conoscessero l'orrore ed esserlo tanta grazia da potersi rimettere nello stato di prima poiché questo è molto difficile a conseguirsi ne feci nuove istanze al padre mio e lo pregai con replicate suppliche tanto che alla fine condiscese mi promise quanto io gli chiedevo lo ringraziai per quelle che ne avrebbero fatto profitto e lo pregai di avere pietà di quei miseri che ne abusavano laudentur jesus et maria cominciamo questo nuovo libro e questo nuovo capitolo con un brano come sempre altamente edificante che adesso andremo a ripercorrere per cercare di darne alimenti per la nostra fede anzitutto la lettura che gesù fa della tipologica allegorica del suo tempo di esilio suo ovviamente di maria di giuseppe in relazione alla vita delle anime noi campiamo come esiliate dal paradiso ahimè e viviamo in un territorio stito in mezzo ai nostri nemici ricordiamo sempre che Egitto in ebraico si dice mitzraim e mitzraim significa letteralmente angoscia sono note le allegorie e le interpretazioni tipologiche dei patei della chiesa per esempio della figura del faraone d'Egitto che è immagine del demonio che tiranneggia che trascina e trattiene le anime nella schiavitù del peccato come gli ebrei erano schiavi in Egitto quindi la chiamata da parte dell'angelo direttamente da parte del padre nel cuore di Gesù da parte dell'angelo per mezzo di San Giuseppe è appunto immagine di questa grande grazia che Dio fa alle anime di uscire dalla schiavitù dell'Egitto cioè dalla condizione di lontananza da Dio di peccato di soggezione alla schiavitù dei demoni oppure c'è anche un'altra applicazione non soltanto per tornare all'amicizia con lui ma anche allo stato di vita perfetta non ci sono soltanto i grandi peccatori senza Dio che stanno in stato di dannazione come si dice ci sono anche quelle anime che magari avevano cominciato a camminare bene sulla via della perfezione che a un certo punto hanno delle battute di arresto o tendono a scivolare nella tiepilezza tornano indietro come come si legge nel Vangelo anche questo è un problema grosso non è un problema piccolo perché anche se non si è del tutto persa la grazia però si sono sciupate tante grazie spero che si capisca quello che voglio dire ecco quindi il Signore Gesù prega il Padre che questo accada quindi che tutti ci abbiano questa grazia di sentirsi richiamati dal Padre chi dal peccato alla virtù e chi dalla vita tiepida alla vita perfetta alla vita fervorosa e Gesù dice certo molte anime lasciano la schiavitù del demone del peccato riprendono il cammino ma purtroppo molte come sempre accade non vogliono farlo attenzione ai verbi che usa Gesù non lo fanno perché non vogliono farlo il problema è sempre nella nostra volontà allora a questo punto il Signore fa due preghiere primo e quelli che sono tornati alla vita di grazia o a camminare verso la perfezione primo non si allontanano mai più e secondo quelli che non hanno voluto dice Gesù testualmente ma attenzione questa cosa qui che oggi è un argomento abbastanza spinoso c'è gente che è stata come dire allontanata da pubbliche emittenti cattoliche o qualcun altro che ha ricevuto video sarcastici e dileggiatori come si chiama insomma ridicolizzatori online perché ha parlato dei castigli di Dio argomento di cui la sacra scrittura che forse qualcuno oggi si è dimenticato che esiste o se la reinterpreta poi immagina e somiglianza è zeppa d'accordo zeppa trabocca perché non è che per quasi duemila anni prima che arrivassero i dottoroni modernisti la gente pensava che Dio castigasse e quindi era una banda di idioti che non aveva capito niente adesso possono arrivare questi signori quindi spegniamo la luce perché finalmente dopo secoli di oscurantismo che parte da Costantino poi passa per gli orrori del medioevo la decadenza del concilio di Trento e poi gradualmente grazie agli illuminati d'accordo da Cartesi in poi arriva agli illuminati cattolici che hanno avuto questo grande coraggio quindi finalmente possono rileggere tutta quanta la fede e ricostruirla d'immagine in somiglianza della ragione illuminata insomma no perché questo è quindi chiaramente fior di santi di dottori di teologi una manica di imbecilli che sono stati che sono andati dietro a stupidaggini e che hanno giocato a terrorizzare le persone per non si sa bene quale strano fine insomma forse si divertivano a fare baobab a mettere paura al prossimo forse penseranno così anche con Sant'Agostino o un Sant'Anselmo d'Aosta o un Sant'Omaso d'Aquino si diverti a fare baobab per spaventare il prossimo insomma nella mia testa è un concetto che non è che ci sta tanto comodo insomma però tutto è possibile per carità i castighi divini di cui Gesù parla i mezzi forti sono le stesse cose che non soltanto si possono ma si devono esperire e questi genitori devono ricordarlo sempre quando non si riesce a far ragionare le persone con le buone perché è chiaro che il nostro Signore ordinariamente l'ha fatto anche Gesù come ci tratta il nostro Signore come ci guida come ci chiama con dolcezza con amore con la grazia con le sollecitazioni mettendoci dinanzi dolcemente la verità perché questo diciamo così è ciò che di per sé sarebbe se mi si passa questa espressione un po' più un po' più consono con la sua natura lui preferisce fare così penso che anche noi preferiamo fare così no? non siamo più contenti se una persona ci ascolta quando diceva una cosa con dolcezza che non può quando dobbiamo ricorrere a qualche misura un po' drastica penso che sia un'esperienza generalizzata però che cosa devi fare se le buone non funzionano che facciamo? allora con le cattive sono pochi a ravvedersi però almeno ce n'è qualcun altro cioè il nostro Signore deve ragionare anche in questi in questi termini se mi posso permettere insomma da quello che si capisce sia dalla rivelazione che da queste cose a lui vorrebbe che fossero salvati tutti tutti purtroppo non si salveranno perché alcune volontà resteranno ostinate allora tra quelli che si possono salvare alcuni salveranno perché come dire grazie a Dio avendo ancora un po' di cervello collegato e un po' di di volontà di mettersi in discussione sollecitati con le buone cominciano a riflettere e diciamo beh vero sto facendo una vita proprio infernale insomma me l'ha ordinato il medico di fare così come il figlio il prodigono torniamo dal padre e ci arriva con gli arabà braccia aperte ma vi fa Dio ma magari fossero tutte così questo però funziona per molti ma in termini come dire assoluti ma in termini relativi cioè in proporzione alla totalità del genere umano non sono moltissimi anzi sono pochi allora che cose deve fare per gli ostinati proviamo a vedere se funzionano le cattive cito testualmente quello che ha detto Gesù quelli invece che restano in misera schiavitù si degni di richiamarli con voci più potenti e con aiuti validi usando anche per chi non ascoltava attenzione il suo amoroso invito e paterna provvidenza che è la norma di Dio i mezzi forti come i suoi castighi per farli ritornare in se stessi affinché facciano per le minacce e per liberarsi dai castighi ciò che non volevano fare per amore ma ci vuole tanto a capire una cosa di questo genere è così scandalizzante capite quanto questa gente che bisogna soltanto fargli una bella risata dietro il problema è che purtroppo con i modi di fare che hanno come dire suadenti persuasivi che lo sembrano benemeriti dell'umanità sembrano tutti quanti buoni gentili eccetera eccetera purtroppo capiscono le anime ma questi bisogna fare una bella una crassa risata dietro ci vuole la scienza infusa ci vuole la sapienza di San Tommaso d'Aquino per capire una cosa del genere uno che ti ama che sa che noi stiamo camminando l'umanità sta in stato di dannazione ci dobbiamo rendere conto di questo il nome Gesù significa salvatore senza un salvatore noi siamo finiti se non fosse venuto Gesù sulla terra a soffrire e morire per noi eravamo tutti spacciati tutti nessuno escluso ora perché questo non accada la salvezza bisogna accoglierla e siccome Dio è amore lui non viene a far accogliere la salvezza col mitra in mano o a bastonate non lo fa questo qui non lo fa mai questo qui per altro quindi te la propone normalmente con lo stile che Gesù ha usato e di cui i Vangeli sono uno specchio evidente con dolcezza con amore invitandoti richiamando cercando di farti ragionare il castigo viene dopo ma questo Gesù l'ha fatto anche nel Vangelo dai Vangeli si vede se uno per esempio legge gli scritti di Maria Valtorta si vede ancora meglio cioè ma il capitolo credo che sia il 23 di San Matteo si dovrebbe essere il 23 contiene le famose imbettive contro i farisei ma Gesù i farisei dice un sacco una sport in quel capitolo ma altro che però siamo al capitolo 23 stiamo alla vigilia della passione con questa gente nostro signore con una pazienza questo si vede ripeto bene negli scritti di Maria Valtorta che io non so come ha fatto perché questa era gente veramente insopportabile cioè era di un'arroganza di una spocchia di una insolenza di una superbia di una insopportabilità unica ci voleva solo la pazienza sua Gesù quando li incontrava si inchinava e gli diceva salve rabbi lui per primo ma ci rendiamo conto dato che questi erano tutti contenti di sentirsi chiamare e lo guardavano continuamente dall'alto verso il passo lui con pazienza ci prova ci riprova ci riprova si prende gli insulti se ne prendono tutti i colori fa finta di niente continua a parlarci traendone cosa nisba li mette davanti ai segni per carità la risoluzione di Lazzaro anziché farli riflettere li ha li ha accecati ancora di più allora ammazziamoli tutti e due così cerchiamo il problema e quindi nel capitolo 23 di Matteo andatelo a leggere Gesù gli dice in sacca e nasporta cioè li tratta con severità usa dei termini prima parla in generale dice sulla cattara di Mosè secondo me si scrive a fare i sei quanto vi dite lo fate e lo osservate comincia a parlare in generale dei loro difetti dopodiché cambia a un certo punto si rivolge in seconda persona guai a voi e comincia scrive a fare i sei ipocriti e comincia percorrete il mare e la terra per fare un solo discepolo e ottenuto lo rendete il figlio della genna doppio di voi questa è una cosa abbastanza santa grave no? o no? oppure guai a voi scrive fare i sei ipocriti che pagate la decima della mente eccetera eccetera filtrate il moscerino e ingogliate il cammello e pure resta un'altra bella suonata o no? guai a voi che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto e dentro siete pieni di ravine e di intemperanza fare i sei o cieco ma pulisci prima l'interno o poi se pochi imbiancati pieni di polizia e di iniquità serpenti razza di vipere più avanti eh insomma la vostra casa vi sarà lasciata deserta finché non finché non direte bene quello che viene nel nome del signore non sembra questo è un'invettiva questa qui questo non è un modo di fare come dire accogliente dolce misericordioso ma l'aveva già usato per tre anni allora quando non funzionano le buone si usano le cattive ma ci vuole la scienza infusa per capire questa cosa qui ma non per offendere è un atto di misericordia anche quello castigo timologicamente certa gente andasse a aprire il vocabolio significa rendere casto significa purificare significa darti una chance di conversione estrema ulteriore prima che sia la fine ma sta gente non crede manca all'inferno capite perché all'inferno non è il castighetto che capito il castighetto transitorio di qua per quanto grave possa essere ci sono i tormenti eterni che non finiscono mai e per risparmiare il tormento eterno io non mando un castighetto ma dico ma quale follia sarebbe questa qui crediamo in un dio folle crediamo io veramente rimango senza parole e dico queste cose a me non me ne importa niente possono stare a parlare fino al gioco del giudizio sti signori a me danno lecchiamette da quell'altra mesce se se la prendono con me facciano pure che tanto è sempre troppo troppo poco non c'è nessun problema a me dispiace per le anime li vanno dietro però perché quelle rischiano la propria salvezza e non li devono andare dietro a questa gente non venissero dietro a me andassero dietro a qualcun'altro andassero dietro a chi vogliono andassero dietro a Gesù che non bisogna andare dietro a nessun essere romano a Gesù e al Vangelo bisogna andare dietro e a coloro che le interpretano autenticamente vedete Gesù cosa dice proprio avanti no che San Giuseppe è l'immagine di quelli che aiutano le persone a tornare a Nazareth cioè alla casa del padre e qui è il discorso che bisogna fare attenzione perché ci sono i buoni aiuti e i cattivi aiuti ci sono quelli che ti aiutano a tornare a Nazareth ci sono quelli che ti aiutano a sprofondare ancora di più dentro l'inferno e il discernimento di questo è un fatto di coscienza sapete quanta gente mi scrive dice padre io sono confusa perché ho sentito lei e poi ho sentito quest'altra cosa a chi devo dare retta fai tu figlio mio fai tu figlia mia attiva la ragione attiva il cervello guarda il catechismo leggi il vangelo fa quello che ti pare io non ti devo convincere io non cerco né adepti meno che mai d'accordo meno che mai e nemmeno discepoli perché discepoli sono di nostro signore non cerco niente e nessuno cerco anime da portare al signore e da aiutarla a salvare se quello che faccio serve a questo e se serve a qualcosa stop se pensi che qualcun altro lo faccia meglio di me ma comaditi pure l'importante è che il pensiero sia retto e corretto perché sono contento non sono geloso come diceva qualcuno fossero tutti profeti nella casa di Israele volesse Dio dare a tutti il suo spirito ma viva Dio l'ho fatto anche durante la mia vita è attestato che quando vedevo qualche buon confronto ma vai da lui tranquillamente io sono più contento d'accordo che è più bravo di me vai tranquillo non è che ci vuole tanta servivare di me tra l'altro comunque vabbè quindi c'è quest'altro spunto di riflessione e poi c'è l'ultimo l'uniformità alla volontà di Dio l'uniformità l'obbedienza pronta l'obbedienza pronta a Dio ecco io ho in programma perché dentro l'anima sapete che c'è sempre un po' un vulcano una cosa cominciare da questa settimana da questo sabato adesso lo dirò pubblicamente tra oggi e domani sul canale dato che molti stanno in diretta Telegram anche se sono una piccola minoranza sono 100 su 6500 insomma quindi vabbè ma io ho intenzione adesso appena finisco questi grossi cicli di catechesi che sono aperti appena ne finisco qualcuno oppure inventandomi qualcosa di inaugurare un filone di cicli di catechesi dedicati a due opere di Sant'Alfonso Maria dei Liguori che sono dei cult uno è l'uniformità alla volontà di Dio che è importantissimo io per tanti anni ho parlato con tutti gli altri lo sanno di divina volontà ma il primo step da compiere è uniformarsi alla volontà di Dio uniformarsi c'è una forma unica Dio vuole che sei a Nazareth e stiamo a Nazareth Dio vuole che stai in Egitto e si sta in Egitto chiuso punto l'ho fatto sempre a Maria Maria Santissima si è appesa a Gesù e dopo di che un bel giorno Gesù ha detto devo cominciare con la mia vita pubblica ma vai figlio mio era morta di dolore ma vai però come quando morite di dolore quando dovete entrare al tempio lasciando i genitori ma quella è la volontà di Dio si va finito chiuso basta arriva la passione e sono morti di dolore tutti e due figli e madre ma questa è la volontà di Dio affrontiamo il dolore basta non è che io per non darti un dolore non faccio la volontà di Dio ma anche se mi dico ma stiamo scherzando stiamo l'uniformità ha la volontà di Dio uniformarsi alle mie disposizioni ed obbedire prontamente cioè quando Dio ci fa capire una cosa con Dio non si può dire lo faccio dopo lo faccio domani ripassa esiste proprio una delle caratteristiche dell'ubbedienza a Dio in primis ma anche di quella religiosa è l'ubbedienza pronta se un superiore legittimo canonicamente istituito oppure perché te lo sei scelto tu tipo un direttore spirituale ti dà un'indicazione un superiore canonico ti dà un ordine ti dice fai questa cosa punto il direttore spirituale generalmente almeno per quanto mi riguarda non danno ordini perentori a meno che non ci sia una cosa insomma che sia un problema morale di peccato mortale ma si danno indicazioni ora se tu con quell'indicazione non non ti uniformi e non fai quello che ti viene detto o smetti di avere il padre spirituale oppure lo cambi giusto se no che ce l'hai a fare è vero che delle volte se la coscienza di dovesse dire va bene ti metti in preghiera lo cambi il padre spirituale non è che uno si è firmato un contratto di matrimonio o un contratto a tempo indeterminato no? però non ha senso no? ecco e poi c'è la bellissima preghiera di Gesù per queste anime rimaste lì che ha un momento diciamo significativo quando lui dice a un certo punto pregai che si degnasse di concedere simile grazia a quelle anime in cui dimoro che bella finché divengano incapaci di accogliere il loro demico che è il peccato queste grandi anime che chi tratta con loro resta illuminato e confermato nella fede nella verità in modo che possa dire che quest'anima è veramente abitazione di Dio bellissime cose no? io penso che il desiderio ce lo possiamo cioè desideriamola questa cosa per quanto possa sembrare lontana diventare incapaci di peccato di peccato incapaci di accogliere il loro nemico che è il peccato magari la preghiera più bella signor rendimi incapaci di fare i peccati e questo e questo poi si vedrà e quando si tratta di anime preposte alla cura delle anime dice Gesù resteranno ammaestrati dalle loro parole dai loro esempi perché quelle anime sono troni di sapienza e abitate da lui ecco preghiamo il signore che moltipli queste anime e che non avvenga quella disgrazia di chi è stata sua abitazione e poi a un certo punto deliberatamente si allontana perché poi tornare indietro come Gesù avverte molto difficile e Gesù ha dovuto penare per ottenere dal Padre la grazia almeno di dare un'altra possibilità come conclude la meditazione di oggi di oggi scampi e liberi da tale grande e grave disgrazia grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.